Sono contento di aver consegnato anche al Presidente della Repubblica la richiesta di grazia per un cittadino bergamasco, Antonio Monella, che è in carcere da dieci mesi perché ha ucciso un rapinatore che era entrato per l'ennesima volta nella sua proprietà. Io penso che la legittima difesa sia un diritto e spero che il Presidente della Repubblica ci dia una mano a liberare un uomo, un imprenditore che si è pentito e dovrebbe stare a casa e non in galera.